Ok, rieccomi ragazzi Oh, perfetto, laggo molto molto di meno Nel frattempo sono andato in un mio video Cioè, nel primo video del 2012 E ho visto Le coordinate per ritornare a casa E direi che mi sono spostato un bel po' Texture Pack la Deathscape Ed è molto figa Allora, le coordinate che l'ho scritto in un fazzoletto sono 41, oh, merda Ho fatto scantare Scantare, perfetto Non dovrei utilizzare il dialetto 41, quindi è da questa parte 41 508 41, 508 Oh mio Dio, però mi sono allontanato un bel po' da casa Quindi diciamo che questa parte la vedrete velocizzata Tipo con le voci Scusate per la voce che è un po' rauca Rauca Ehi, ciao a zombie Farò In questi giorni mi sono aggiornato tipo un bel po' Su Minecraft, tipo piantagioni e altre cose Quindi adesso sì che sono diventato un pro Ciao, gattino Allora, 41 Oh, ancora Nyeh 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 Oh mio Dio, sono raffreddato Oh, forse no Non sono raffreddato Qualcuno mi spara Perfetto Grandissimo figlio di... Va bene, andiamo No Aspetta ti uccido Tu sei lo zombie paesano Non mi interessa niente Mi servono patate Allora, aia Fili di cani Oh, basta Ehi Ma ce l'avete con me oggi Mi stanno... Mi stanno demolendo tutti i cani E rimane in bilico In bilico Perfetto Non voglio sapere neanche cosa è successo là sopra Cane di merda 48, no 41, 41 41, continuiamo da questa direzione Perfetto Eh, tieni Anzi, appena arriviamo a casa Se arrivi vivo Ti do la ricompensa Siccome da come è messa la situazione Non penso che arrivi vivo 41 Sapevo che era una brutta cosa Viaggiare con la notte Tutto di fronte E se facessi una barca? Hmm Casa mia Era situata... No, vabbè Ci muoviamo attraverso la giungla 41 Basta però di spawnarmi Ehi Ehi Guarda Ci stavo pizzando veramente Ma Ma non era marrone un cane Comunque Cane di zombie So che non dovrei mettermi così Vieni qua Perfetto Tu sei felice E tu sei felice Io no però Quindi Ehm Mangia il pane Vai Guardatemi le spawn Ancora? Ah ma Vi siete riprodotti? Non avevate nulla da fare Perfetto 41 41 508 Ci stiamo avvicinando Io questa strada me la ricordo Ha qualche cosa di familiare 41 41 Eh già Questa strada Mi sembra proprio di ricordarmela Soprattutto qual passaggio là Forse perché ci sono passato Non registro ragazzi Da tantissimo tempo Comunque Come avrete notato nel video precedente Quello di Con sottofondo battlefield Finalmente sono partner Di youtube Finalmente Scheletro dorato Aia 41 41 E se continuo da questa parte Aumenta da Ah che perfetto Perché dove andare 508 So che mio fratello Mi ucciderà Appena finirò di registrare Che cos'è? Pietrisco Bene Usiamolo So che sono stato Un cattivo padrone Con voi Però Devo salire Mi devo salvare Eh vabbè Più alto no Ma dove sono andato Oh mio dio Sì 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 Anche io Anche io C'ho l'armatura E non in oro Però mi potrei dare qualche cosa Dobbiamo incantare La spada Allora Poi scendo di nuovo laggiù Oh no Basta 41 Gli zombie Vabbè dai Così i cani Nel frattempo Si fanno uccidere Allora Devo andare Verso quella parte Verso quella parte C'è casa mia Ok Devo andare Allora tutto Da questa parte Perché devo arrivare A 508 Poi la strada Me la ricorderò Da me Allora Troppa giungla Che cosa mi incanto Per primo Mi incanterei Il piccone Sì Perché Sono le prime cose Che si incantano All'inizio di minecraft Quindi Vado per il piccone Comunque era meglio Se mi faceva una barca Che cosa è Qui Bene Forse mi ricordo Questo punto Bastardissimo Di un creeper Non mi avrai mai Puoi prendere i miei cani Ma non mi avrai mai Ok Questa texture Penso la terrò Per un bel po' Per un bel po' Guardate che figa Cioè guardate Dai Troppo bella 41 400 508 Quindi devo farmi ancora Altri 200 blocchi Fortunatamente Velocizzata Devo parlare piano 5 Ho intenzione anche di Vabbè ma già l'avrete sentito Se io entro nell'altro video E ho intenzione di fare poi Una serie In live Tutta in live In pratica Ovvero non continuerò Non continuerò Questa serie Da solo Ma la continuerò Insieme a voi Con i vostri consigli Anche perché Tipo fra un pochino Fra tipo 10 giorni Mi metteranno fast E quindi Si Dientrà una gran figata Perfetto Siamo a casa Allora Come mi ha detto Un gentilissimo Iscritto Mi ha detto Che le piantagioni Crescono meglio Ma dai Sono fatta la famiglia Dei bassotti Crescono meglio Sulla sabbia Quindi Depositiamo intanto Tutto ciò che abbiamo In casa Dai però Mettiamo un po' di Postazione di video Si perfetto Facciamo crescere Minecraft Ok Perfetto Mi mancava la casa Dai Oh Wow Questo quadro Non l'avamo aggiunto Quindi perfetto È rimasto così Mettiamo a cuocere Il ferro Tutto il ferro Che ho Quindi qui avevo L'altro ferro Oltre dei Diamanti Vado a prendere Vado a prendere il coso Allora Voi rimanete qui Perfetto Mi seguono Bene Tu siete di cucciolo Però non è che mi dovete Sguazzare dentro casa Perfetto Perfetto Non manca nulla Ok la casa Si mi è mancata Allora dove era la zona lavica Eh c'è Ex zona lavica Qui Devo prendere allora Perfetto Ho pochissime Piancane da zucchero Troppo poche Farmi le librerie Più che altro È un Un disperto Vabbè basta Scendiamo dai Saliamo Scendiamo su Ok Mamma mia che cucciolo Allora Allora Si faceva con Un libro Ecco Iniziamo bene Allora il libro Così Così Perfetto Già ho finito tutte le Ah ma guardate qui Quante Quante canne da zucchero ci sono Allora mi sa che il problema Più che altro saranno le pelli Vabbè ma qui non crescono Un po' le piantagioni Allora La sabbia Si ora la procura Va bene dai No va bene niente Non va bene nulla Allora Cerchiamo un deserto Oh vabbè dai Mi accontento con questa acqua di sabbia Prendiamone molta Almeno per ricoprire di nuovo Quella Quella faccenda Bene Mi sto scavando in pratica Tutto attorno Poi la stanza degli incantesimi Come la posso fare? E basta Sali Comunque ho 37 di esperienza Prima che l'esperienza vada perduta Si mi devo incantare assolutamente qualche cosa Quanto sabbia? 39 Vabbè mi basta